Allora fratelli, il devil te saluta e te augura buon pomeriggio Frate, vi chiedo solo una cosa, metti un bel like, iscriviti al canale e condividi Perché il video di oggi è un video bomba, perché quello che te sto per Dio non te lo dice nessuno Perché tanto oramai ho capito una cosa, che a ognuno gli conviene fallo mertosi e stassi e zitti Ma siccome a me non me ne frega un cazzo e so per le battaglie e per le ingiustizie Io come sempre faccio senza bavaglio parlo, quindi fa una cosa, appizza le orecchie e ascolta quello che ho da Dio Allora regà, venerdì sera se gioca l'Olimpico Lazio-Milan, una partita importante, una partita di cartello Cosa succede in questa partita? Che c'è una squadra, la Lazio, che finisce in otto Contro 11 del Milan, l'accusato principale è l'arbitro Di Bello, che sembra aver fatto una marea di stronzate Naturalmente io non mi esprimo, frate, perché non so né un giudice sportivo, né un giudice proprio E né so dentro la Lega e nemmeno sono arbitro, quindi non posso dire troppe cose Però mi voglio soffermare su alcuni punti importanti Il primo punto è questo Marco Di Bello, dopo quanto è accaduto il Lazio-Milan, non tornerà in campo per un mese Non ho capito Ma questa è una notizia ufficiale o è un gioco? Perché, ragazzi, se questa è una notizia ufficiale Io non sono, sono incazzato da tifoso Ma sono incazzato da romanista Perché Alla prima stronzata Se gli si può di questo, di Bello L'hanno punito Per un mese L'hanno sospeso per un mese Guarda caso contro la Lazio Allora Vi faccio un po' di domande Innanzitutto chi è il presidente della Lazio? L'ho dito Guarda caso l'ho dito È senatore della Repubblica È un pezzo grosso Nella Lega Calcio Tant'è che Finita la partita Va davanti a Sky o da Zanna Non mi ricordo che cazzo era E fa terrorismo mediatico Andatevi a sentire quello che dice Andatevi a sentire con quanta aruganza E con quanto veleno Se permettete di Prenderemo provvedimenti Ma tu chi cazzo sei Ma che sei il giudice sportivo Te sei un dirigente Sei il presidente di una squadra Come cazzo ti permetti Di fare terrorismo sportivo Ma quando noi siamo stati puniti Due anni e mezzo Perché in panchina Io avevo lo Special One E il numero uno Che l'hanno penalizzato Dalla prima all'ultima giornata De quando ha seduto Sulla panchina della S Roma Tu brutto barile Dove cazzo stavi? Eh? Noi siamo potuti stassitti Tutti quanti Ci hanno inculato la finale europea Dove cazzo stavi? Che hai fatto un comunicato E se la gente è sportiva E se ricorda come me Tu Hai fatto un comunicato Dove ti sei dissociato Alacrementi Dalle segnalazioni Che aveva fatto Giuseppe Mourinho Che aveva capito Che c'era un sistema Sporco Nel mondo del calcio Perciò il mister mio È stato allontanato Dai Friedkin E non c'è sa più È questa la verità Però qui Di bello sbaglia È subito Un mese di punizione L'arbiti nostri Due anni e mezzo Di errori Addossa la S Roma Una partita europea Inculata Tutte le partite Mourinho Espurso Giocatori Espursi Rigori Non dati Rigori Dati all'altra squadra Zitti A noi niente Brutti Pezzi Di merda Mandri A dei corrotti E schifosi E schifosi Me fate pietà Tutti quanti Me fate schifo Al cazzo Dal primo All'ultimo Avete capito? Non siete sportivi C'è qualcuno Che ancora Non ha capito Come funziona Sta porcheria Del mondo Del calcio Di bello Ha pagato Dopo una partita Pensate Che storia Mourinho E' stato esonerato Perché due anni E mezzo De torti Lui andava a parlare E non poteva parlare Nessuno però Sta di niente A A Mourinho Sta zitto Allo dito Lui può parlare Perché lui è Senatore Della Repubblica E soprattutto Sta in sede Un pezzo grosso Della Lega Me fate proprio Schifar cazzo E mo Se siete Veramente sportivi Venite a scrivere Nei messaggi Ma non dite Le porcherie Casciate le palle Per di che C'ho ragione Perché è questa La verità Pur esistere Della Lazio Del Milan Del Parma Della Juve Del Napoli Dell'Empoli Dei qualsiasi squadra Lo sapete bene Che dico la verità Perciò Tutti i video miei So virali Avete capito Perché a differenza vostra Quando io son nato A me M'hanno dotato Dei due coglioni Così grossi E parlerò Fino alla fine Della vita mia Avete capito Vergognatevi Vi dovete Vergognar La Lega Si deve vergognar Perché da quello Che ha detto Lo Tito È stato subito Punito di bello Però ripeto Alla Roma Tutti i torti subiti Ci ha rimesso Murigno So contento E felice Del senato romanista Perché tutto Quello che me So guadagnato Non l'ho mai rubato Andatevena Affanculo Pezzi De merda E il Devil Vi saluta Sempre senza Bavaglio E con la fascia Bella Bella in mostra Frate Vi saluto Fratelli Grazie a tutti